Turno in infrasettimanale per il campionato di Serie A che comincia la sua decima giornata con un ininteressante anticipo a Marassi tra Genoa e Milan. Entrambe vengono da situazioni differenti. Il Milan ha compiuto l'impresa nel posticipo di sabato scorso di battere la Juventus per una rete a zero e di mettere in evidenza le sue ambizioni di classifica. Invece il Genoa era stato sconfitto nel derby della Lanterna ad opera della Sampdoria per 2-1 e cerca di rimettersi in gareggiata nella lotta per non retrocedere anche se la situazione non è certamente facile. Nel resto del programma della decima giornata di mercoledì attenzione particolare al riscatto dell'Inter che vede la panchina di De Boer traballare sempre più pericolosamente che ospita in casa il Torino. Il Napoli al San Paolo affronterà l'Empoli tra le altre gare della giornata da segnalare la trasferta della Roma a Sassuolo, della Lazio che ospita il Cagliari e della Juventus che deve riscattarsi contro la Sampdoria.